A parte un paio di esclusioni eccellenti, i pezzi da 90 del mondo della sanità e delle farmacie ce l'hanno fatta entrare a Montecitorio e a Palazzo Madama. Dal ministro uscente della salute Renato Balduzzi, eletto alla Camera con la lista Monti, all'ex presidente della commissione d'inchiesta sul servizio sanitario nazionale Ignazio Marino, eletto al Senato tra le file del PD. Inoltre entrano in Parlamento Andrea Mandelli, presidente della federazione nazionale ordine dei farmacisti e Luigi D'Ambrosio Lettieri, vicepresidente della stessa federazione, entrambi eletti al Senato nelle liste del PDL e varcano la soglia di Palazzo Madama anche il presidente della federazione dell'ordine nazionale dei medici Amedeo Bianco, eletto nelle liste del PD e Annalisa Silvestro, presidente della federazione IPASVI, il collegio degli infermieri. Entra invece a Montecitorio l'ex presidente della federazione ASLA e ospedali Giovanni Monchiero. A restare fuori tra i big solo l'ex presidente della commissione errori della Camera Antonio Palagiano, candidato alla Camera con Rivoluzione Civile, la lista d'ingroia che non ha superato lo sbarramento, e Walter Ricciardi, direttore dell'istituto di igiene della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università Cattolica di Roma e candidato al Senato nella lista con Monti per l'Italia. Grazie a tutti.